Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle scarpa Ribelle Run Calibra G, una scarpa pensata per correre su neve, su ghiaccio, a temperatura anche sotto lo zero, che personalmente mi è piaciuta tanto, l'ho provata veramente a fondo e ora vi racconto pregi e difetti all'interno della recensione completa. Inizio come al solito dal peso di queste Ribelle Run. Nella taglia 42 pesano 380 grammi, nel mio 47 arriviamo a 450, è un peso decisamente alto per una scarpa da trail, è vero, però come vedete abbiamo tutta una parte di ghetta che va decisamente ad aumentare nel peso e vi assicuro che alla fine nel momento in cui andremo a correrci non le sentiamo pesanti e riusciremo ad andare anche a buoni ritmi. Iniziamo come al solito a parlare della suola, qui abbiamo una suola presa proprietaria di scarpa che personalmente mi ha convinto davvero tanto, più utilizzo le suole presa più mi piacciono, in questo caso troviamo una suola studiata proprio per l'inverno con una tessellatura alta 5 mm e studiata apposta con degli canali di scolo per poter far andare a defluire il fango o la neve. Tanto che anche correndo con queste scarpe su neve fresca non si creano zoccoli di neve, riusciamo ad avere sempre un ottimo grip e proprio anche il compound, quindi la mescola di questa presa è decisamente fatta bene. Una volta parlato della suola passiamo all'intersuola, qua troviamo innanzitutto un drop di 4 mm con un'altezza sull'avampiede di 20 mm e 24 sul tallone. Un'intersuola a media densità, non super ammortizzante, comunque questa scarpa è pensata per correrci 20-25 km al massimo, quindi comunque è una scarpa che ha una buona reattività, molto meno rigida rispetto alle ribelle run che siamo abituati, è abbastanza flessibile e in generale comunque quando ci corriamo anche attorno ai 5 km la scarpa ci restituisce un buon feedback. Ma arriviamo a parlare della parte più interessante di questa scarpa, ovvero tutta la parte lato maia, iniziando dal puntale. Un puntale che non è molto strutturato, è abbastanza morbido, infatti se vado a premelo si schiaccia molto facilmente, però tutto il fascione che troviamo sul puntale va a ricoprire completamente tutta la scarpa, cioè proprio passa 360 gradi attorno alla scarpa e questo ci dà un'ottima protezione da tutti quegli agenti esterni che potrebbero andare a urtare il nostro piede. Arrivando a parlare della tomaia in sé, è una tomaia fatta con una membrana Polartec Windblock, una membrana antipioggia, antivento e che ci dà anche una certa termicità, perché io l'ho utilizzata con una calzino invernale ai 2-3 gradi e non ho avuto freddo, quindi una membrana che mi ha convinto. Per quanto riguarda invece il materiale vi assicuro che questo non si rompe, l'ho utilizzata per davvero tanti tanti chilometri e non ha nessun tipo di forellino, abrasione, nulla. Le scarpe sono ancora praticamente nuove, quindi anche la durabilità del materiale della tomaia promossa. Ma arriviamo a parlare di tutta la zona del tallone e della ghetta. Tallone anche lui non tantissimo strutturato, è abbastanza molle, però come dicevo ci conferisce una buona flessibilità al momento di corsa. E arrivando a parlare finalmente della ghetta, questa qua è abbastanza alta, va sopra la nostra caviglia, arriva quasi alla fine della gamba e in generale è fatta molto molto bene. Quando corriamo non si sente che abbiamo la ghetta, non ci intrancia in nessun modo. Grazie anche alla parte elasticizzata posta proprio nella parte superiore, questa si chiude veramente bene attorno alla nostra gamba e davvero non sembra di avere una scarpa con una ghetta, quindi un lavoro molto ben fatto da scarpa. Se proprio proprio devo trovare proprio un puntino negativo in tutto questo sistema è la cerniera che ogni tanto si impunta. Ogni tanto bisogna andare ad aggiustare, ad avvicinare le due parti perché tende un attimo ad impuntarsi. Proprio proprio il polo nell'uovo forse è la cerniera. Ma arriviamo a parlare anche del sistema ad allacciatura. Come avrete visto sicuramente c'è un BOA, però è un BOA un po' diverso, è un BOA LI2. Cosa vuol dire? Che noi possiamo andare a stringere come siamo già abituati, ma anche ad allargare. Quindi se vogliamo allargarlo di un millimetro, due millimetri, girando nel senso opposto della chiusura, l'allacciatura andrà ad allargarsi. E questo LI2 di BOA mi è piaciuto davvero tanto perché possiamo andare a chiudere l'aprire della scarpa molto velocemente quando vogliamo. Parlando sempre dell'allacciatura, come vi ho detto in tante altre recensioni, quando troviamo un singolo BOA a me non ha mai tanto convinto perché la parte dell'avampiede poi si fa fatica a stringere. Anche con queste calibra G siamo più o meno lì. Però abbiamo fatto dei passi in avanti anche grossi, però grazie al sistema WRAP 360 studiato da BOA e scarpa l'avampiede riusciamo a gestirlo decisamente meglio. Non siamo ancora a livelli di una calzatura normale con dei lacci normali, però abbiamo fatto decisamente dei passi in avanti rispetto ad altri modelli con un singolo BOA. Infine, parliamo un attimo dell'avampiede. È una scarpa abbastanza grande, non a livelli di scarpe wide come altri marchi, però troviamo un qualche millimetro in più anche se dovessimo andare a utilizzarla con una calza invernale pesante. E per quanto riguarda la linguetta, anche lei mi ha convinto, nessun problema funziona bene. Poi in teoria la scarpa non dovrebbe bagnarsi vista tutta la membrana, quindi non c'è il problema che ci scivola il piede nel caso di scarpa bagnata. Tiriamo dunque le conclusioni per queste ribelle RUN Calibra G. A me sono piaciute veramente tanto. Avendo l'opportunità di correre su neve fresca in alta montagna, queste scarpe sono veramente il must. Se siete persone a cui piace correre sulla neve e soprattutto al freddo, queste scarpe ve le consiglio tantissimo. Hanno un ottimo grip, un'ottima termicità, perché secondo me con un calzino invernale e con questa scarpa possiamo arrivare tranquillamente anche a meno 10, correndo naturalmente. In generale io davvero ve la consiglio tanto. Ha un prezzo alto, perché comunque la si trova in giro tra i 200 e i 220 euro, però è una scarpa pensata per un uso specifico, una scarpa che al momento ha pochissimi competitor. Le tecnologie qua sono decisamente tante, quindi secondo me il prezzo che costa è commisurato alle performance, al tipo di scarpa che poi andremo a comprare. Dato ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per queste recensioni. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!